Ecco l'entrata in campo della Quattro Colli. Da poco ci sarà l'ingresso in campo delle due scuole. E' l'annunzio Marina Pescara, arbitra l'incontro, l'arbitro il signor Di Felice e Di Pescara. Ecco con le maglie gialle l'annunzio Marina e con Bianca Antuzzi i Quattro Colli. C'è il sorteggio, campo pallone. 50 e croce di quattro, chi è sulle testa? Tu. Ok. Palla. Palla, campo voi? Ok, salutiamoci. Vanno a salutare le panghine avversarie. Da questo lato è la Quattro Colli che va a salutare gli avversari della D'annunzio. E qui con la maglia numero giallo della D'annunzio... Il nostro cameraman Carlo Iocco, inviato da Sky Sport, da Secondigliano.